Ciao, io sono Pino, ti do il benvenuto sul mio canale NoiQuiz dove c'è intrattenimento e riflessione. Questa è la puntata dedicata al nome Caterina, che fa parte della grande tradizione onomastica italiana e tratteremo questo nome da vari punti di vista, iniziando con una citazione, come vedi. A quale Caterina famosa appartiene? Negli anni 60 io ero considerata scandalosa perché vivevo da sola 18 anni. Sono stati anni difficili per le donne. Chi l'ha detta? Catherine Spack oppure Caterina Caselli o Caterina Balivo? Cosa ne pensi? La risposta esatta è Catherine Spack. Allora, pronti per queste curiosità sul nome Caterina? Scopriremo dove è più diffuso, tanti tanti dettagli interessanti. Partiamo da una domanda di base. Cosa significa il nome Caterina? Le immagini ci aiutano un po'. La risposta è pura come l'acqua che vediamo scorrere da questa cascata. Via col quiz! Prima domanda. Andiamo a Siena. Ecco, io mi fermerei a mangiare un po' di ricciarelli, ma faccio il bravo. E vi conduco lungo queste meravigliose colline toscane alla prima domanda. Quante sono le donne con questo nome nella città del Palio? Più o meno di 2.000? La risposta esatta è... Meno, ci sono appena 680 Caterina oggi in provincia di Siena. Domanda numero 2. Mentre vediamo il Duomo di Siena che ci accompagna, passiamo a Firenze con una curiosità ulteriore sul nome Caterina. Quante Caterina vanta la provincia fiorentina rispetto a Siena? Lo stesso numero? Il doppio o il quadruplo? La risposta esatta è... Il quadruplo. Ci sono circa 2.500 Caterina a Firenze. Sarà contenta Caterina de' Medici che continui questa tradizione medicea. Andiamo alla terza domanda. Le Caterina in Italia quante sono in tutto? 220.000? 320.000? O 520.000? L'opzione corretta è... La seconda. 320.000 Caterina. Domanda numero 4. In queste tre città risiedono più Caterina. Qual è la prima di queste tre che vediamo in foto? Vediamo Palermo. Questa è Torino. Oppure terza opzione. La città di Brescia. inaspettatamente la città con più Caterina residenti è... Niente poco di meno che... Torino! È stata una sorpresa nella preparazione di questo quiz anche per me. Allora, vi invito a condividere questo video con le Caterina che conosci. Sì generoso, generosa, prendi la tua rubrica e spedisci questo video per omaggiarle. Ti ricordo che noi quiz offre ogni settimana nuovi video con video vari ed eventuali giochi dei più disparati sulla televisione, vedi la Carrà, Milva... tanti, tanti, tanti temi. Se ti piacciono i quiz, segui il nostro canale. E come si può fare per non perdere le puntate? Iscriviti, clicca su iscriviti in rosso e sulla campanellina. Ti aspetto presto su nuovi quiz. Ciao!